push and fix il migliore sistema di fissaggio a ventosa basta premere per far aderire saldamente i ganci ad ogni superficie forte tenuta e lunghissima durata posiziona premi facilissimo le tradizionali ventose si attaccano solo su superfici lisce grazie allo speciale materiale push and fix aderisce a qualsiasi superficie liscia ruvida o bombata non servono attrezzi li posizioni e fissi in un click perfetti per il bagno la cucina l'ufficio il garage e ovunque c'è da appendere qualcosa i ganci ventosa push and fix non temono l'umidità o la temperatura usali dove vuoi in casa o all'aperto posiziona premi e non dovrai più preoccuparti lo speciale meccanismo consente di sostenere fino a 5 kg con una sensazionale tenuta nel tempo si rimuovono facilmente basta fare entrare aria sotto la ventosa e il gioco è fatto push and fix i ganci ventosa che mantengono quello che promettono iscriviti al canale